Luca Villani, 19enne di San Giovanni Rotondo, non fa rientro a casa dall'11 agosto. Cellulare spento, con sé non ha né documenti né soldi. La famiglia preoccupata ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri dopo circa cinque giorni dal mancato ritorno. Poi dopo altre 72 ore di vana attesa, papà Raffaele e mamma Grazia hanno lanciato l'allarme sui social tramite il sindaco Crisetti. Un ragazzo taciturno e che in passato si è allontanato più volte da casa. I militari lo stanno cercando. C'è fiducia sul fatto che si sia trattato di un allontanamento volontario e che il 19enne possa essere in zona. Direttamente non lo conosco dalle notizie assunte. La personalità che ne verrebbe fuori, parlo col condizionale, è un tipo un po' introverso. Certo la cosa che ci preoccupa è che sono già nove giorni dalla scomparsa ed è un tempo piuttosto lungo, quindi se fosse stato ipotizzo una sua marachella, chiamiamolo così, sta assumendo i contorni invece un po' più seri. Io conosco relativamente la famiglia, conosco la sorella, ma non è mai apparso una problematica, se ci fosse, una problematica alla base di questa scomparsa. A me mi va di fare un appello a tutti quanti perché qualsiasi piccola notizia di comunicarla alla locale stazione dei carabinieri, alle autorità, in modo tale che si possa quanto prima risolvere questa questione che tiene in apprezzione un'intera comunità. Faccio un appello anche a lui se dovesse anche sentirmi di farsi vivo nei modi che riterrà opportuno, però che dia un segnale soprattutto alla famiglia che è certamente in apprezzione.